E' uscito Battlefield Friends, nuova puntata chiamata TeamSpeak, oh Dio! TeamSpeak? Sì! Ma l'hai già visto? No, è uscito quattro ore fa. Non è buono da vedere. Yes, yes! Stai a giocare con Sclerato, Infant? Contro, in verità. Lì, eccolo. Fino abbassa un pelo il volume. Vuoi Dark. No, è shiny. Stanger! Non Stanger! Non Stanger. Versus Ellie? Chi è Ellie? Una pecora? Ciao! Ellie è il cagnolino di Hai! Sì! Oh, veramente? No, scherziamo! Siamo sponchillati? Stai aspettando un jet? Eh sì, ma appena... mi sei appena distrutto. Quanti ticket sono? Non lo vedo. 800. Mamma mia. Il nostro amico... Il nostro amico sclerato si è appena presa una bamba con una tampetta. Tu che hai fatto? TRUSSI Asciutto... spalle che si sono scoperte di fare dei ticket quanti in merda sono 9 e tanto porco cane della pietra ma è una bella cosa spera per 8 euro e fai giusto no, te so chi son base deve che cadere a tua partita invece lo so che a te ti piace solo sponchi l'aggi e beh allora allora la squadra si fa css che cosa 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 plan di sclerato folle i cis ah cis aspetta i sviaggi informati hanno preso tristi in Italia ho visto che hanno preso i piccretini chi se il mercato dei panni dai monta coglione arrivo ahahah beh vuoi fare la previsione che c'ho avuto a passare io vuoi fare eh quindi fatemi capire forno in fine classica ok ci posso studiare che stendiamo a sparare c'è quello c'è ma cacchino non ti hanno cagato ahah a coglione ma non vi sono se ne ho sentito bene se ne faccio la domanda oh lo vedi le persone mature no come Frank che due fichetti non ti rispondi questa volta mi sono presenta guardate questo sta correndo come un behota ma c'è la tua squadra per secondo no ti ha quattro ma porto ma perchè eh ecco qui stanno 700 qui che può fare più su non 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 ma scusa si scaccia eh vabbè mi sei sicuro non 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 ma chi è che è brutta adesso mi sei ma io ho fatto il plan con le parti non non può il 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 secondo medico che ovviamente avrà preso dal nostro forum no la rifugia no ti vorrei andare a vedere proprio vediamo la cosa prima no prima è sceso bella bello eccolo eccolo mamma mia ma senti vabbè siamo 4 chiacca no caccia come è non è è fa c'è il Cụi... C senatorne... Oh... È... Qualki? Qualcuno? È un около... Non È Babessi la marca troia un po' dentro sapevamo, cristo santo, è il trinto totus tony un po' completamenti ti riesci a spartare? io ho sparato ma dai sparata spacco tutto mangio tutto no, sto con l'RPG no, vigo io, ho uno con l'Igla? ah no, ma si appena non ha vissuto l'elicottero apre il caccio volendo io si vuole un percorso non farti avanti non farti avanti che vengono gli altri bravo, forno, forno, forno uno, forno cinque quattro tre due uno vedi quanto sei strontu stupendo il 1 1 1 1 2 2 2 3 2 Il Mav Bello, un'altra volta Un'altra volta Grazie C'è qualcuno qui su Alpha Ma viva Rion Come c'è qualcuno scendo la bandiera? Eh, no, però ho sentito delle voci Guarda che uno per te va Sei bello, sei bello, sei bello, sei bella, sei bella Yeah, 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 yeah Raga ma Eh? Che è Alex Nebula? Nebula? Nebula Non ne ho assolutamente idea Ho sentito ma non ho un certo idea Di chi ti stia parlando Di chi è? Di chi è? Perché? Perché ma Che sto l'amicizia su Battlelog Dagli La mia 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 Stai una gira un po' molto tranquilla però Ok Nebula Eh le lego 8 Napola Oddio Adesso comincia con gli attacchi con la coda Adesso comincia con gli attacchi con la coda Bungoloide ma almeno un altro a piedi Bravo, bravo Io direi ho paura con lì Adesso Marco Tiso Gli stai la fe***o Cos'è scelta? Vieni su alfa Ah vieni su alfa No, vieni su alfa No, a bandiera Sforzata Ma si Ma non sei 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 Ma un cecchino qua ha visto? si dovrà essere stato il segnalatore eh fatti io visto oddio ma dimmi tu uno sulla costa mi sa si si vabbè dentro che è detto togli però stessi stanno svuocando un'altra volta ha trovato? ebbene abbiamo ripreso tutte le bandiere mancava solo una e questi è il carro il suo alzo sperato primo colpo dato eh io adesso ce n'hai uno dietro forza ovviamente siamo insieme eh dai ce n'è stato un altro vdv ma dai cagipeta che palle siamo sulla del carro un'altra volta quarto un po' di stronzi no questo che assa il supporto ma l'aveva col ferro che cazzo non fai eh scusa no che cazzo porco timonio timonio vai 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 Nooo Sto vorrebbe salire Beh, è geniale Ma io sto voglione C4, fermo, fermo Oddio, 4.000 e cazzo c'è1 Oh, che cazzo 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 Ok Ok, ci tenevo. Eh vabbè. Arun, perché asso? Cazzo, andavo piano. Sì, 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 il caccia, al lest. Ar! Ma, alfa, stanno a perdere o stanno a prendere? Non lo so, c'è te. Fermo la bandiera. Ma stanno a perdere. Per dietro, ho visto bene. Si può? Questo spara all'infinito. Però se non arriverà, no? Che c'è l'elicottero adesso. Fammi entra, il Dio Magnole fammi entra quando avremo il cerchio, il corpo del Cristo. Oh, non scende, ragazzi, mamma. Tana Madonna, oh. Eh, caccia, ovviamente. Sono pieni di tardati. Dov'è Cristo, eh? Eh, mo' c'è pure lì. Non so. È andata per questa cosa nostra. Va salì? Sì, sì, va bene. È andata per un peccato, eh? No, perché con l'idea non si è proprio più volante. No, perché così c'è proprio poco da sparare, però non c'è. Non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. Ora, GPD, come è passato? Eh, non so. Dio Magnole, Dio Magnole, Dio Magnole. merci da ragazza! No, 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 no. Dio, vai a matramarci Dio, vai a matramarci Ciao, meide Ciao E tu bari E tu E tu bari Dai, ti ritira la carnata E ancora avrò Quante Voce robotica Non vado per c***o E vabbè E dove è? Stà sopra di lui Vabbè E E E La gente si sveglia profamente, correi in bagno a spisciare e magari smaginare la fattuta vostra che vi è scolata la sera a casa. Nei momenti seduti sulla tazza si fanno le migliori riflessioni, politica, cucina, cazzo mangiare oggi, bolle e più a pagare, vestito vero, Obama, il forno preferito. E tra una riflessione e l'altra ci scappa pure una sega o di carino. Ma che cazzo fa le donne? E così. Detta così non ha nessun senso, però se ci metti tra parentesi... Ma se li metti i grandi, ti prendo il prossimo senso. Questo qua è il flash. Oh, fordio. Oh no. Ho sentito i miei temi? Sì. Volta. Ma qua, dove stai? Di te lo devo dire. È sul carro, ma sono lì. Ah, è. Uè, tu dì te lo devo dire. Primo caccia disattiva. Cosa non posso dire? Tu? Non lo devo dar cazzo. Eci da cazzo. No, c'era una parte. Sta venendo a giocare. Eh, muori. Eh, va bene, vai. Sclerato del cazzo. Guarda, se i video, devo registrare tutti i tuoi, saprò un video. Qui su qua. Oh, salve, addio. Guarda, se ti fa, se ti fa, se ti fa, se ti fa. Oh, salve. Vai, la refugee. Oh, salve. Prepari a die. Tu, io, spaz, è niente. ecco lì per farmi un po' di chi? Sì 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 Solo perché a Fegan trovi Te volisse domani Ah c'è 2 L'hoff Liii Sì 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 Ma dove c***o la figlia? Dove va il cuore? Fammi vedere Ma chi sei a farlo? Sicura si sta bloccando tutto Uuuuuh C'è il blocchamento sta Sì C'è un pesibili Ma oh C'è un pesibili oh Carlo di strada Non c'è un pesibili Sì Sì Aspetta Non è scoppiato Flash player Che c***o Spawn No No vabbè Aspetta Non cansevo Vieni Hai vinto Ulta My chopstick Lo attivate No? Sì Cosa deve fare? Sì 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 Mamma mia E' rimasto all'1% C'è un po' di roma E' 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 un po' di roma Io sono andato agli archivi del duca Per recuperare le magie cristallizzate Vabbè Penso magie cristallizzate in casino Eh sì eh Eh Ah Non ci scherzare mica eh Boia de Boia de Boia de Boia de E' mi fa De boia Eh Eh Dai E' un caro che c'è C'è Un'altra montagna però eh No capisci che non hai fatto una sempre�전za No capisci che non hai fatto una sempre Psaki Ahia! 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 Ma sono tentato di venire a farà Ah, mi sta farà chiaro Eh, c'è un caro nostro davanti Cheers Ma che mi affacete? Carga Carga? Ah, ammazzatevi Ah, ho avuto un dolore te Ammazzatevi, cioè Eh, non vengo con voi Voglio fare mappe grandi Va bene Non mappe grandi ma noi Ma sono proprio un coglione Sono disattivata Sarò un coglione, ma non c'è più card No, infatti ti puoi mettere a riparare Metti spariamo un card, dai Ah, ah Ah, l'ho disattivata Ah, che? Ma c'era pieno di gente No, l'ho disattivata, non l'ho ammazzata Eh, non l'ho visto che era pieno di gente Sì, va bene Mi ha ammazzato dalla base Vabbè dai, con l'RPG Ma santo Dio L'altro giorno mi stava dicendo come Si stesse divertendo C'era la gente che andava a piazzare all'emcom E gli arrivava sempre un razzo in faccia Quella gente rinfrata da Fabri Eh, vabbè Guarda questo che dunge Guarda questo di l'acqua Ci sono soddisfazioni Beh dai, lo avrei fatto ogni Dio Ma sei dai, vengono giù qui, guarda No, no, scena, ammazzate i problemi Perché volevo le altre Metti avendo Che cazzo? No, ma c'è lui se lo vedeva No, che fa, ma si spostano Ok Ma cosa fate, lui? Sarboza No, non spostiamo Eh, ma può diventare un casino Guardate Non è No, non è Non è Non è Non è Ma te ne metti un visuale a solo Vaffanculo Va Non è Non è No, non è Perchè sto a continuare avunque Dai, ragazzi Cazzo, un cazzo è sto volco! Delanculo, rabbiscio! Ma c'è che si è metto via guarda! Ma parco Dio, dove stai a fare? Guarda! No, il carro dietro! Oh, cazzo! Tira, tiralo, tiralo! Tira, tiralo, tiralo! No, cazzo! Stai di cazzo, vado! Stai di cazzo! Dato, vado! E' andato! Caricato! Ingegnero da delta, c'è pure quello che lo ha otto! Mamma mia, disperse! Cazzo, ho morto dentro! Dio, cazzo! Vado! 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 Vado, cazzo! No! Vado, cazzo! Ma come la hagga? Però trovo la hagga! Piazza! E' hagga sulla cazzo, su, su cazzo è un dolivino! Che cazzo! Sto a casa, se si tivete. Sì, si libera un posto. Qui è? Hola! Ciao bebe! Non so farlo, sei felice? Sì, no, perché stai distruttando su qualche cosa pensa di me. Arrivo pure io. Devi aspettarmi. Ho detto vi rubo la prima. Bella, Frank. Oh, va bene, questa è stile. Ma ora si fa qualche partito online, allora. Hai visto il carro qua? Sì, la prima, ma Cristo, addio, ma quando è scatto così? Eh, vai, tu. Fede, ma io non ho capito che l'ho messo, no? Ma me l'ha fatta installare sulla drive, no? Pure a te? Sì, sì, fa tipo l'installazione. Disattivata? Eh... Quanto non vorrei... Non ho installato il suono centrale che fa. Quindi mo, me l'ha fatta installare. Quindi mo lo posso appiedere a prendere a lavo del station. Devi scherco. Eh, no. C'è, devi sentare il disco in lavo station. Eh. Eh, tutto, ma... Quanto è il turismo che... Quanto lo metti con l'installazione per esercizi e caricamenti. Cazzo è che mi aggancia qua, ma non scherziamo. Vedete, il turismo è vero? Sì, scherziamo. Merda! Ah, io sono troppo... Guardate, eh. Lo tolo, lo tolo, arrivo, arrivo. Guarda, arrivo io sempre in coda. Diabò! Per me che serve da quelli caro antichiarabito, dovrebbe essere nella zona asiatica. Sì. Pistole. Ma guarda come va a scart, due porca madonna. Non mi vuoi riparare, ma santo Dio. No, vabbè, dai. Eh, infatti, con il tardato è così, lo sa. Dai, mori, io voglio riparare a te nel conto. Ma come si fa a guidar quando va a scart così, porca madonna. È volibile che ho visto. No, certo. Ma porca puttana. Eh, non lo tengo più. No, vedi nel cesto. Lo vedi nel mio passo. È tornato adesso. Vedi il primo cassetto. Eh, vabbè. Guardate qua va a scart. Ma il culo, è stronzo. Chi? Quella me va a metterci fuori. Ad è tutta volente. Che è made in Sicili? Perfetto, ci hanno rubato il capo. Oh, non è vero. Allora. No, sei di pieno, ma ti chiedi. No, è quest'altro qui. Io vorrei vedere che questa c'è la porta aereo. Oh, è, tu hai tratto io. Non mi è fiume. Potete fare entrare in me che a me non è voluto inutile. Non mi è fiume. È stato... Mamma mia. Dai, che scherzo. È molto utile. Porca. Qua è di malola. Ma non ho di dockspin. Mh mh. Petrona avrà... Eh, si, non è molto popolare. Fai laggando. Capito. Agitto che sta andando il mondo. Perfetto. Ti che... Te laggando. No, stai laggando te. Dai, i lavori caricati, ragazzi. Eh, ci me la cambio tu. Stai laggando tu? Fede. No. Allora. No, è almeno io con Frank che laggo. Questa è Frank che è venuta. Adesso lo vado in settimana qui. Andiamo tutti. Che fiori. Capito. Sì, che caccia io. Eh, vabbè, dai. Schierato con mezzo lo studio. Ma guarda che. Ma guarda questo che dritto, guarda. Quindi posso? Non so. C'è un posto, raga. Ah, ma io sembrerebbe con sclerata. Non c'è. Ah, cazzo. È di laggia. Eh, allora a te che entra. Muove. Io ho sbagliato anche... Ma porco Dio. Eh, la partita è sostanzialmente inutile già scritta ormai. Sì. Anzi, che siamo riusciti a un po' seguire solo per fare. Poi c'è qualcuno sulle montagne. Sì, c'è stato un po' che ha gippietto. Sì, le montagne a sinistra. Poi lì. Pena uscita a base. Allora. Ehi, guarda c'è tutto lì che te sono. Oh, che fa questa braina. Raga. Che cucchiello non c'è? Chiudi, ho chiudi molto da sti incognoli. Vai cala. Vabbè Chi è sull'elicottero? Chi è sull'elicottero di voi regà? No io sto sul carro Mamma dai Vabbè Il mitraglione è il silenzitore Sì Vogliamo uscire? Il mitraglione è il silenzitore Il mitraglione è il silenzitore Vieni ma sei te Ah no Non so io ancora Scini e Rebis siamo uniti di ripartati per se rimassi di là No non siamo niente No Scini non è pieno Però tranquillo Il mitraglione è il silenzitore Non so Non so Non so Non so Aspetta ma No Ma avevo detto prima Porca madonna Oh Porca madonna Vabbè ma dove stai finendo? Eh C'avevo Un'elicottero al culo Ho scoperto l'ICM Nel basso Ho fatto due Tiroette Capita un cazzo No io al manu sono sempre il soggetto Se lo mettono tutti Guarda come va a scavati Ma come faccio a mirarlo? Dio Cristo Dio Vabbè è qui Ogro Capita Avvenисle Dunci Vedo Tr妳 Souda Ch Vann mamma eh mamma dai mamma la sedia va bene eh ma sono senza cm però siiii quest'altro con il corpo è disatto allora vai che puttana vai vabbè dai vabbè dove stanno i carati davanti eh si è proprio come li vedo? ah prova ah merda ho già vinto i due io ah merda eh 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 ma io non dico che deve essere bella soltare perchè ci faccio tremendamente schifo ma questo come sta andando al piano che oh madonna che è la carne il carico ci sono più alta eh ma sta lunga no ok poi ci sono buoni che non l'avete fatto invece ce ne è un'altra credo ce l'hanno fregata no 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 ti sei lo spottato no no stanno tutti e due in base no ma sai lei non c'è questa di due no spala l'ambro mi fermo nella fianco in talcar mi scaccio un buon lavoro con tala ce la faccio a terra no ma io pure mi butto dalla caccia quando mi disattivano ma lo faccio solo se sto in zona bianca non in zona nera mi sento se mi butto sento in zona nera no in zona bianca rimani vivo in zona nera muori comunque in zona bianca al minore se mi butto so da vivo questa persona oh vabbè dai caldino non mi posso male d'anni ma a me è l'attento e sapete che sei la mia ma a me è l'attento e sapete che sei la mia ma perfetto e questo Yah comma andate cosa chiamo il carrozzuro un giro cazzu genvere uo un povero ma il culo del strunzo Ma dimmi se perché non farsi? Perché sei un coglione Gini star dell'altri Spiega ma fa che? Ma sono le mani dell'altri Questo è stile Oh ma che la fanno? Mi cadono anche la persona che si attivano Mamma mia Vedo Bella molto Vamo più Però non ho anche no no mi riuscita stai scendendo su la faccosa hai rotto il cazzo dai ma come Cristo mi fa la lucacchina ma è assoluto a scendere la faccogadilla tranquillamente e facendo un cambio a partire guarda, 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 guarda guarda, guarda, guarda guarda, guarda, guarda guarda, guarda guarda, guarda guarda, guarda guarda, guarda, guarda guarda, 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 guarda non c'è mai più l'ostarca 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 non mi fanno oh... oh si toglieri non non ti mi piace è infatti quello è durato tu carca insieme a sede robb insieme in tutti i quartali ok guarda non è 4-9 A lavorare Scusami Scusami Se ce la fai togli un re di culo Eh sì Aspetta di andare a una piccola ma se non ci si prenda Tu che è il culo Oh vabbè Scusami 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 No, vedo si un po' no su Oh, baby, che è stato salutato Vieni a buttare Scusami 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 eh no ecco quello c'è due faccia ancora? vieni metti più eh vabbè 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 curati ah 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 ma adesso adesso che è che no è si ma non 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 Aspetta io ho l'ottimo basso a prenderlo tutto Vedi quel trucco di chiediamo meglio in base Puttolo 2.03 Qua vuoi 2.03? Io torni un napo Eh vabbè Mi ha fatto spettare Ips Mi ha fatto spettare che avuta a prenderlo in base Mi ha visto? Mi ha visto? Senta Ecco Puoi ripetenderemo spettare Ola Mi ha spettato E lo spettalo per la sfida che si porta Vabbè Non è via lo stesso Porca madonna questo E' a cala Eh ma c'era un altro Ola Chi è la seconda casetta A dove? Eh davanti guarda Eccolo eccolo C'era il supporto Oh muori Vedi davanti andiamo? No Eh Vieni occhio No no Eh scine più forte di tutto No no Mascine più forte di tutto La macchina è più forte di tutto Di ricco di mare Ok oggi abbiamo una riata Vedi Ma non sei qui Viva davanti C'è? Le dite Le dite Le dite Dai E' una parola Questa è un malinfatelito Vabbè ho buttato uno qua si oh quando è salita? ci siamo super adesso vada vada è un filo mamma mia che dire per cui si prende un attimo almeno ne ho tre esagerati si falle aspetta la fattura porco dio l'ho disattivato e non ce la faccio per te e cazzo la cosa è no mamma eh non mi ricordo da un cecchino oppure l'elicottero superiore eh cristo dio l'elicottero sta bene invasando un picoglione ti faccio squadra per dopo qua e non mi ricordo che è questa tipo la carriera si che vanno rompi i coglioni in base eh non mi ricordo perchè è proprio la vita che non gioca non c'è no pochi si cadete i labbis hai spero che lo vengono da un piccolo di un barco si si per il palico la voce di affatto fino a che il helicoptero è un bus la versione è sclerato con un'altra taggita che è più nel clima di sclerato e pulo ci sta critorino non lo voglio sono proprio a meno di voi il fenomeno come sclerato lo possiamo perdere va 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 fa un culo ok è un jet ah però andiamo tra di noi bene dove ce l'hai mandato di fare però c'è qualcuno in base tra alfa e la base nostra che lo ho lì poi nel male che si trova il bus super c'è una gente che invece con questa tetta si mette l'unitario eh intanto rompe il cazzo però è un jet è un jet è un jet porco 18 minchia l'ho mica visto ah 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 eh no non c'è assolutamente sto sul l'auto ah eh vabbè disattivato eh vabbè è redis Nooo, mi hai fatto distruggere da Redis! Con gli occhi che ti vengono questa? Nel mentre te che stai a Fadi a mezz'ora di San Tadio stai a Fadi a G con te. Io sono sul shop. Bravo. E c'è tutto che mi lascia? Sì. Questa partita è proprio una cosissima. Ha colpito. E' finica. Ma a me non gli veni con gli occhi, eh? Non avevo molti assoluti. Sporavo sui miei. Mamma mia! Noi si può! Che cazzo si può! Tutto! Oddio! 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 Non stavo pure in mezzo, cazzo! E' un'altra parte di mezz'ora mio. Stavo facendo orco. Padre! Padre! Yeah. Noi tutti pienzanini dai. Punti il falco. A me non carica le tele. Guarda te! Vedi te? Non lo porto lì, ci vuol dire che è tutto rosso Il carro d'altro, c'è qualcosa d'altro, vediamo Totalo E no, mi sa che è fatto io C'è qualcuno che mi spara, ah è lei lì Ah, io lo sto toccando in testa Ma guarda, lì c'è una GP in vuota Ah, per buttare Questa continua a schiantarsi come un mongolo Ok Ok, finito e c'è un morto Un via, c'è qualcuno Ecco, guarda davanti, guarda davanti Chi fai davanti? Ah Puntai il carro, puntai il carro Guarda, è un po' costato È un po' costato Oh, ma troppo lì Oh, a finestra Oh È andato il carro È andato il carro Vabbè, fai che torna Affalaccheggia Vantale Oh, oh Oh, mi sa qua qua Pocca miseria Sì, ma un po' di mamma C'è questo lo calato Cioè, mamma mia Dietro Mamma mia, te li stanno proprio tutti i coglioni Invece le passano Ma è normale che vuoi scoltare il tuo quadro È normale Che i quattro di nuovo Davo 12 Mamma mia Magma mia Ti ho detto sicuro Bambucca Il tuo è un blocco Ma è una mega ma è una mega Ma perché c'è il bambino Bambucca Sto che ti resta Sto caro Sto caro Sto caro Mi lampeggiamo La volta che vado sul mare di zona alfa la... ... la... 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 Eh, io provo a tornare a terra su alfa Oh, mia c'è un mongolo... Ma forse la leri... Ehi, caccia! Ripa l'alfa, scini! C'è due caccia dietro, Monti Eh, allora per caso Quello, siete proprio con lo staventino lì Dai, vai giù, ti abba Oh, mia madre! L'alto mi è scantato! Ci vuole un po' di caccia Carro! No, no, mi è scantato! C'è stato di caccia, l'ho scantato! E va a supera Madonna, la roba a sparte, madonna! C'è un mongolo No, no, aspetta Bostro, sto sciocando, aspetta! No, no, aspetta! Attacca di far l'era! Il tetto di Charlie, spazio in costruzione del lato grado E' tutto lo stesso, vaffanculo, va! Da Delta! C'è, guarda dove mi ha preso! Guarda dove mi ha preso! Guarda dove mi ha preso! Incredibile! Eh, no, non mi darci più Sì, vabbè, dai! Caccia che mi disattiva, quasi moro! Sì, vabbè, dai! Caccia che mi disattiva, quasi moro! Ma l'hai visto? Credo Sì Sì, sì Vabbè, ne va tutto a cazzo Ho buttato uno col caccia Un cecchino che lo uccide No, vabbè, l'hai giusto al piano con l'aereo E' lo so Ma dove mi ha preso? Ma dove va? Dai, dai, faccio No, hai visto quello che ti ha preso? Come fai tomancarlo? No, no, l'ho preso il master Ah Guarda che cazzo di smart Guarda E' un po' cazzo Eh, vabbè, stiamo succedendo E' un po' cazzo 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 Non lo so Vabbè? Fai il giro da dietro Gira qui E' un po' cazzo Due carri Due carri Purtiamo quale puntate che lo puntate io Vabbè, puntiamo quello E' quella dita sulla montagna, non so Però davanti a me sono due Quello sulle montagne e la quella di me due Cazzo Aspetta, montite a puntare questa montagna E' un po' cazzo E' un po' cazzo 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 Tana Cazzo 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 c'è tutto scelerato e compagnia bella, dai 2-4 ma io metto al culo la scelerata perché c'è 4 siamo di là? no, è passato lui di qua, vabbè o vi lancerà il bello è che mi sa che hai generato dall'elicab e mi ce l'avevo più invitato sto favore